Milan Inter il giorno dopo Allora, parleremo anche di Real City Ma partiamo da Milan Inter Non mi sarei mai aspettato una partita così Onestamente 1-0-2 che all'Inter gli sta pure stretto Cioè, fosse finita 4-0 per l'Inter Non si sarebbe potuto lamentare nessuno E quello è un problema di approccio Diamine, è sempre un problema di approccio L'Inter ieri è entrata in campo con una cattiveria disumana Veramente desiderando questa finale E dimostrandolo chiaramente Questa è l'Inter Questa è la squadra che mi ha fatto sempre dire Anche ai tempi del Benfica Non credo che quella partita avrebbe voluto rappresentare Un problema E difatti stanno dominando la semifinale di Champions Cioè, credo che per tutto l'anno Ci sia stato un po' l'errore di sottostimare una rosa Che complessivamente è molto fornita E che quando sta bella carica e bella in forma E' uno schiacciasassi Ieri hanno fatto sembrare il Milan una squadretta E il Milan una squadretta non è Quindi Questo dà una misura di quale sia il lavoro di Inzaghi Che ripeto A me non sta simpatico per niente Però è un allenatore che come ho sempre sostenuto Ha un valore assoluto Che andrebbe riconosciuto da più parti Perché professionalmente è bravo Non mettetela come vi pare Ma è bravo Non è simpatico Ma è molto bravo E dall'altro una rosa Che può permettersi delle rotazioni E in Italia poche altre squadre possono permettersi Cioè, nessuno mi leva dalla testa Che se quest'Inter Non avesse mollato il colpo col campionato Sarebbe stato uno scudetto molto più combattuto Poi credo l'avrebbe vinto comunque il Napoli Però No? In quel caso magari l'Inter non sarebbe insieme ai finali di Champions Tutti i discorsi che lasciano il tempo che trovano Quello che conta è che l'Inter ieri ha fatto una partita E a cui ha rivendicato la propria presenza Nella semifinale di Champions Con chiarezza Con chiarezza estrema Perché Se sono potuti permettere di tenere Lukaku fuori Dzeko ha fatto una partita clamorosa Ieri Frutto anche Della sua serenità Mi ricordo qualche giorno fa Non mi ricordo che partita era Chiesero a Dzeko Ma non ti manca il gol? Una roba del genere E lui disse Ma io i gol importanti l'ho già fatti Che comunque la cosa non mi turba Il concetto era quello Tattè che è arrivato a fare il titolare Nella semifinale di Champions Con Una 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 Un distacco Una calma Una lucidità Che gli ha permesso di fare Un primo tempo clamoroso Con la maturità del giocatore di livello Ieri si è vista tutta Si è visto anche un Miquetariane In condizioni Straordinarie E' una squadra che veramente Ha delle scelte Cialanoglu ha spaccato il palo Ma ci sono state occasioni Su occasioni Su occasioni Con un Milan Abbastanza fuori fase Sorprendentemente fuori fase Cioè il Milan di Sabato Con la Lazio Era un Milan molto più concentrato Ieri il Milan sembrava Una squadra non abituata A questi A questi palcoscenici E' quello che mi ha un po' Destabilizzato Sinceramente Perché proprio il discorso Che facevamo Qualche settimana fa In occasione dello scontro Con Napoli I Champions Parlavamo di un Milan Molto più consapevole Di certi appuntamenti Eccetera eccetera Ieri Vuoi perché il derby Mischia un po' Tutte le carte in tavola Anche psicologicamente Si è avuta la percezione Completamente opposta Un Milan Fuori fase Fuori situazione Fuori tutto Ieri E credo che anche le parole Di Pioli post partita Sia allo specchio Di una squadra Un po' in confusione No Ora Credo che alla luce Del risultato Al Milan Si è andata molto bene Ringraziando Megnan Tra le altre cose Si è andata molto bene A questo Milan Ieri Perché ieri Con una prestazione del genere Rischiavano di compromettere Totalmente La doppia partita Adesso Con il 2 a 0 C'è un margine Complicato Perché l'Inter È forte Ragazzi L'Inter è veramente forte Ma c'è margine Se il Milan Dovesse fare Una partita Di livello A ritorno Si potrebbe Anche andare A pensare A qualcosa Di più Incerto Come risultato finale Ora come ora Con un Inter Così Di incerta C'è solo la finale Per cui Però Veramente Cioè Ieri Ho visto un Inter Che Con la collaborazione del Milan Però Ha dimostrato Di essere una squadra Che si può giocare Anche un'eventuale finale Se gioca così Certo Per giocare così Devi anche trovare un avversario Che ti permetta Di giocare così Cosa che magari Nel City Nel Real Sono disposti a fare Però A me Quello che stupisce Sconvolge E che Invidio mortalmente Lo dico con grande franchezza L'invidio tantissimo È la qualità Dei cambi Cioè Io Scusate un attimo Io Devo andare Leggi i cambi Che ha fatto l'Inter ieri 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 i cambi Sono stati Impressionanti Ieri l'Inter Ha fatto uscire Mkhitaryan È entrato Brozovic È uscito Dzeko È entrato Lukaku Che peraltro Non ha fatto Anche una brutta partita È uscito Di Marco E' entrato De Vrai È uscito Cianoglu E' entrato Galliardini Ecco Galliardini E' uscito Martinez E' entrato Correa Cioè E In pacchia C'era pure Gosens Voglio dire Cioè Squadra decisamente Attrezzata Per questi appuntamenti Quindi Beati loro Che hanno una rosa De 20 giocatori Boni Veramente Boni E forse Se li avessero avuti Da inizio stagione Avrebbero fatto Un'altra stagione Anche su altri fronti Quello Quello bisogna dirlo Però Alla fine Izaghi out Izaghi out Izaghi out Izaghi sta sempre lì Cioè Izaghi Zitto 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 Ecco Ora Parlando Del Milan Bisogna dire Che l'assenza Della ausa E' sentita Però non può Rappresentare Un alibi Il discorso E' quello Ragazzi Arrivando a queste Purtroppo Il Milan Quest'anno Si ritrova A giocare Una semifinale Con un po' Di sfortuna Quella c'è Purtroppo Fa parte Di questo sport Con un po' Di sfortuna Anche legata Al mercato Perché Quest'anno Avrebbe Avrebbe auspicato Un decateler Diverso Che magari In partite così Era quello Che avrebbe dovuto Fare la differenza Invece Purtroppo Panchinato Con cattiveria Con piena Colpa Sua De che ciò Metto Intendiamoci E poi Credo che ieri Sia mancata Veramente tanto Una preparazione Mentale All'appuntamento Perché il Milan E' uscito Veramente fiacco Ieri sera Poco determinato Poco cattivo Era O meno Forse un po' Spaventato E giocando in casa Non te l'aspetti Per quanto il derby Sia Ripeto Un discorso a sé Però No Ora Passato a Real City Brevemente Sono forti Ragazzi Che capita Capita Sono forti Vedi eh Cioè La partita E' stata Con meno occasioni Forse di quella Che abbiamo visto ieri Però Sono due squadre Veramente Veramente Scomode E scomode È un eufemismo Per caratteristiche Diverse Perché è vero Il City Fa più possesso Però il Real Ogni volta Che tocca palla Ogni volta Che tocca palla Può andare in gol Ogni volta E ha delle individualità Che sono Clamorose Io Sono un fan Di Camavinga A dei livelli Che non riesco Neanche a spiegare Adoro Vinicius E' una squadra Bella Da vedere Proprio Perché è Totalmente Imprevedibile Non mi piace molto Il fatto che siano A volte Molto Scenici Molto Teatrali In delle Reazioni Ma quella è una cosa Che a quanto pare Appartiene A più di qualche Giocatore Che milita in Spagna Però Al di là di questa Considerazione E che poi E' un aspetto Che la rende anche Un po' irritante Per l'avversario Quindi Real è una squadra Che da tutti i punti di vista Sa giocare a calcio Nella maniera Più bella E anche più Meno bella Possibile Il Serie E' una squadra Magari un po' meno Un po' meno Un po' meno Pronta Per certe cose Un po' meno Abituata A certe partite Un po' meno D'esperienza Ecco Perché alcune cose D'esperienza Che Real fa Non le vedi fare A quelli del Serie Però Diciamo che Il grande merito del Real La testa è stata quella Di annullare Praticamente Holland Per quasi Tutta la partita Per quanto Quello ogni volta Che abbia preso balla La porta L'abbia centrata Però Diciamo Non ha avuto Occasioni così limpide Per Per spaccarla La porta Però squadra Squadra notevole Diciamo che Lì Il ritorno E' molto In bilico Inter Milanza Una partita Molto più delineata Verso un binario Favorevole all'Inter Però Anche lì Parlando del derby Può succedere di tutto L'Inter potrebbe entrare in campo Con un po' di tensione Anche se non credo Onestamente E magari compromettere Qualche minuto di partita Per rimettere in gioco Il Milan Saranno comunque Due bellissime partite Credo molto più belle Di quelle dell'andata Entrambe Quindi vedremo un attimino Ora Oggi c'è Juve Roma E Fiorentina Vediamo che succede E domani Magari ci facciamo Una chiacchierata Anche su quell'altro Credo che guarderò Quelle Fanno vedere un po' tutto In modo da Chiacchierare E magari mi recupero Qualcosa per intero Stanotte Se riesco Però ecco Due partite belle Da vedere Contento Di essermi Ritagliato Qui in 95 minuti Con l'una e con l'altra Curioso di leggervi Soprattutto Finalisti Interisti Ovviamente E niente ragazzi Sempre Forza Lazio Che male non fa E ci vediamo alla prossima